Quando si parla di investimenti immobiliari si sente sempre nominare il nome di Alfio Bardolla, ma ci possiamo davvero fidare dei suoi insegnamenti? Ne parliamo in questo video. Ogni volta che apriamo Facebook siamo bombardati dalle pubblicità di Bardolla. Non sappiamo mai se si tratta sempre di fuffa, i soliti informatori, oppure è effettivamente materiale di qualità. La storia di Alfio comincia nel 1972, quando nasce a Chiavenna, una piccola cittadina della Valtellina. Da questo momento in poi quello che si sa sulla vita di Alfio Bardolla è quello che lui stesso racconta, quindi non ci sono delle fonti esterne. Comunque lui ama sempre raccontare che nella giovane età era un giocatore di hockey. Una volta raggiunto la maturità ha preso il diploma e decide di trasferirsi a Milano per studiare, in particolare economia e finanza. A questo punto comincia l'attività imprenditoriale di Alfio, perché da quello che lui racconta, a 19 anni ha dovuto già aprire la sua azienda, la sua prima azienda, era una ditta che si occupava di settore informatico, per mantenersi agli studi, dato che la sua famiglia non aveva le disponibilità economiche per sostenerlo. Dato che questa azienda, sempre stando ai suoi racconti, andava particolarmente bene, a un certo punto però, sembra per alcuni pagamenti mancati verso la sua azienda, da parte di clienti, l'azienda deve chiudere i battenti e questa situazione lascia Alfio e la sua famiglia in cattive acque finanziarie. In particolare la madre ad un certo punto corse anche il rischio di rivedere la sua casa di famiglia venduta all'asta, per ottenere dei finanziamenti utili al mandare avanti la ditta. E' a questo punto che inizia a crearsi l'Alfio Bardolla che oggi conosciamo perché ha iniziato a studiare il settore immobiliare, gli investimenti in borsa e grazie proprio alla conoscenza che aveva acquisito negli stralci immobiliari, che sono delle particolari operazioni in cui si vanno a chiudere dei debiti verso, in questo caso, delle banche garantiti da ipoteca su immobili, è riuscito a salvare la situazione della famiglia, di sua madre e a salvare l'immobile e che rischiava di essere pignorato. Ad un certo punto, oltre a risolvere i problemi familiari, questa sua capacità negli investimenti gli ha consentito anche di avere delle entrate di tutto rispetto e di mettere da parte un discreto patrimonio. Ed è proprio qua che nasce la Alfio Bardolla Training Company che poi è diventata ABTG, quindi Alfio Bardolla Training Group, che è proprio l'azienda di Alfio che si occupa di vendere questi corsi così contestati, così costosi. E la ABTG è stata anche quotata in borsa nel 2017, nell'indice AIM, la borsa di Milano, che è un indice dedicato alle piccole e medie imprese innovative. I detrattori di Alfio però sostengono che si sia arricchito molto di più grazie alla sua attività di formazione rispetto alla sua effettiva capacità di investitore immobiliare e investitore finanziario di cui si vanta e che pretende di insegnare ai suoi studenti. Ed è proprio qua che si inserisce il caso del giornale L'Espresso. Infatti questo giornale nel 2018 ha attaccato pubblicamente Alfio Bardolla con una serie di articoli dove sosteneva che Alfio Bardolla avesse frodato i corsisti con delle false promesse, quindi di arricchimenti veloci, di aver fatto delle oscure macchinazioni finanziarie e di aver ripagato dei buchi, dei debiti che aveva fatto in passato con delle operazioni immobiliari grazie alla quotazione in borsa, cosa ovviamente illegale. Non mi addentro nei meccanismi finanziari anche perché rischio di darvi delle informazioni errate. Il succo del discorso è che tutti questi articoli hanno messo in cattiva luce Alfio Bardolla verso il pubblico, le sue aziende hanno perso quotazione in borsa e in definitiva ne hanno risentito gli azionisti e che a risentirne di tutta questa situazione fossero proprio i piccoli azionisti che avevano investito nelle sue aziende. Ma una delle domande che mi sono fatto è, dato che Alfio pretende di insegnare come diventare ricco, lui che risultati economici ha? Qual è il suo patrimonio? Quanto guadagna ogni anno? È in grado di insegnare questo ad altre persone? Allora a livello patrimoniale non ci sono dei documenti ufficiali, non ho trovato documenti ufficiali, se non una pagina sempre di Alfio Bardolla dove lui dichiara di avere un patrimonio stimato di circa 40 milioni di euro. La pagina è aggiornata al 2020, così sembra, quindi abbastanza recente. 40 milioni di euro di sicuro non è un patrimonio da uomo più ricco del pianeta, ma se paragonato a noi comuni mortali sicuramente è un ottimo risultato. Mentre il guadagno, il guadagno annuale di Alfio Bardolla è più difficile da stimare. Quello che sono riuscito a trovare è il fatturato della ABTG, ovvero della sua azienda più importante. Il CDA, il consiglio di amministrazione, ha stimato un fatturato nel 2021 di 12,4 milioni di euro. È diviso tra l'Alfio Bardolla Training Group italiana, quella spagnola, e AGL che è l'azienda aste giudiziare Lombardia che è stata acquisita nel 2019, o meglio hanno acquisito il 51% di AGL per 150 mila euro. Mentre l'EBITDA che sarebbe l'utile all'ordo di tasse e oneri finanziari si attesterebbe nel 2021, come previsione, a 3,8 milioni. Ancora una volta non sono risultati da startup miliardaria, però è riuscito a creare un ottimo business. E qui veniamo alla domanda principale. Alfio Bardolla ti insegna veramente come diventare ricco? Allora, qui le opinioni sono effettivamente contrastanti. Ci sono persone che adorano Bardolla, che seguono tutti i suoi corsi e che dichiarano anche che la loro vita si è completamente trasformata una volta che hanno seguito i suoi insegnamenti. Invece la maggior parte delle persone non si ritiene pienamente soddisfatta dei corsi che ha seguito, ritiene di averli pagati troppo, anche perché i corsi costano svariate migliaia di euro fino anche a 30.000 euro per dei seminari. E in definitiva la sua vita non è cambiata più di tanto in meglio dal punto di vista finanziario. I corsi che propone ABTG sono divisi nelle varie aree tematiche. Il più seguito, possiamo dire, è il Wake Up Call, che è un seminario di un fine settimana, dove il costo va dai 300 ma anche può superare i 1000 euro a seconda dei pacchetti che si acquistano. E vengono, diciamo, date delle informazioni, a mio avviso abbastanza basilari, su quella che è la finanza personale, gli investimenti immobiliari, gli investimenti in borsa e la creazione di aziende. Ora, possono essere concetti basilari, ma ovviamente se si viene da una situazione di completo digiuno rispetto a questi argomenti, ci possono essere degli spunti interessanti che possono essere poi la scintilla che vi consente di approfondire, di studiare in maniera più accurata e poi magari di ottenere qualche risultato in quegli specifici ambiti. Il mio consiglio è di acquistare il libro I soldi fanno la felicità perché con 6 euro su Amazon potete avere gli stessi concetti che vengono trasferiti in questo corso, io l'ho fatto, quindi vi parlo a ragione meduta, gli stessi concetti sono contenuti nel libro I soldi fanno la felicità. In questo modo potete rendervi perlomeno conto se per voi possono essere interessanti e utili. Un altro motivo per cui potrebbe essere utile andare al wake up call è quello del networking, il networking personale, ovvero conoscere altre persone magari interessate agli stessi argomenti e agli stessi mercati con cui puoi sviluppare magari dei progetti. Io stesso sono ancora in contatto con diversi investitori immobiliari che ho conosciuto nell'ambito dei seminari di Alfio Bardolla. L'obiettivo principale di ABTG al wake up call è quello di vendere i corsi che costano di più e ovviamente portano maggiori profitti per l'azienda, che si dividono come vi dicevo in Stirene Immobili le aziende e gli investimenti in borsa. Io ho frequentato dei seminari sugli investimenti immobiliari e vi posso dire che anche in questo caso si tratta di informazioni abbastanza basilari, non c'è dentro tutto quello che serve per effettivamente fare investimenti immobiliari e diventare ricchi come viene promesso, ma ci sono una base che poi sicuramente può essere ampliata, approfondita e studiata in maniera più accurata. Un appunto importante secondo me è che anche se i corsi vengono chiamati di investimenti immobiliari in realtà si tratta di trading immobiliare che è ben diverso dagli investimenti perché il trading prevede in realtà un'attività commerciale, ovvero di acquisto di un immobile, riqualificazione mediante una ristrutturazione e rivendita. Prevede ovviamente anche un grande dispendio di tempo, di energie, di risorse e si inquadra come un'attività commerciale, mentre gli investimenti immobiliari sono altra cosa, l'investimento immobiliare è comprare un immobile che sia una scuola, un ufficio, una casa e metterlo al reddito, quindi locarlo, affittarlo per ricavarne una rendita, quindi sono due attività completamente diverse. Per quanto riguarda i seminari invece di investimenti finanziari e aziende, io non li ho seguiti quindi non vi posso riportare un'opinione diretta, ma conosco delle persone che li hanno frequentati e il resoconto è più o meno lo stesso, cioè ci sono informazioni basilari da approfondire e in definitiva informazioni che si possono trovare anche in tanti libri che potete acquistare a un costo molto più modico rispetto ad andare a un corso di Alfio Bardolla. Le opinioni e le recensioni che si trovano sul web riguardo ad Alfio sono veramente contrastanti, vi basta vedere una sua pagina social e le opinioni sono veramente le più disparate. Io personalmente credo che quando sono andato al wake up call avevo 22 anni e col senno di poi mi rendo conto che i concetti spiegati possono essere banali, a me oggi sembrano banali, ma in quel momento venendo una situazione di completo digiuno rispetto alle idee, agli argomenti che venivano trattati, comunque ha messo in moto qualcosa che poi mi ha consentito di approfondire e posso dire che in qualche modo ha influenzato il mio percorso di formazione, direi una bugia dicendo il contrario. Però se dovessi oggi consigliare a qualcuno se fare o meno i corsi di Alfio Bardolla, come prima cosa, come ti ho ripetuto in tutto questo video, sarebbe quella di deviare l'interesse verso dei libri, acquistare dei libri che parlano di quegli argomenti, approfondirli e capire effettivamente se spendere migliaia di euro per corso può essere la soluzione giusta per te. Spero che queste informazioni ti siano utili nella decisione che devi prendere, mi raccomando ricordati di mettere mi piace, di iscriverti al canale e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!